Davide, terzo risultato utile consecutivo, una prestazione convincente soprattutto per quanto riguarda la difesa con il Teramo che non ha concesso gol, ha creato tanto ma ancora una volta grande muro in difesa. Sì dai, abbiamo confermato quelle che erano le impressioni delle ultime partite, che riusciamo ad essere compatti dietro, quando c'è da soffrire lo facciamo in maniera unita e a Fossombrone appunto era mancato quello, quando prendi uno schiaffo devi saperti rialzare subito senza pensare all'errore precedente e adesso lo stiamo facendo. Rimaniamo in partita quando c'è da soffrire, siamo andati sotto a Isernia, siamo andati sotto con il Roma City, però c'è la mentalità giusta, quella di rialzarsi e quella di ripartire forte perché quando sai che giochi per questa maglia non devi smettere mai di crederci, ci devi credere fino alla fine, lo stiamo facendo, stiamo lavorando alla grande e se stiamo andando bene dietro è merito di tutti perché anche oggi Stefano che viene esaltato ovviamente per il gol che ha fatto ma ha fatto una partita di sacrificio, lo stesso Nuan, lo stesso Luis davanti, tutti quelli che sono entrati, Gonzalo è entrato e quello è un grande segnale, significa che quando c'è un obiettivo si rema tutti verso quell'obiettivo. Com'è stato anche tornare al Bonolis? E' un'emozione forte, poi appunto da Terramano averci vinto l'anno scorso la Coppa e il campionato ha rievocato bei ricordi, però i ricordi appunto li lasciamo al passato, ora c'è da costruire, da scrivere qualcosa di nuovo e cerchiamo di farlo giorno dopo giorno con il lavoro settimanale, lo stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così. L'ultima prossima partita è il derby contro il Chieti? Sarà ancora più bello e lo è ancora di più arrivarci appunto con tre vittorie di fila perché ti dà una grande identità e quindi ci faremo sicuramente rispettare alla grande, verrà fuori sicuramente una grande partita e non vediamo l'ora.